Prosegue l'attività del SAGI, il sindacato autonomo giornalisti italiani in tutto il territorio italiano e non solo. Ultima novità, il giornalista Enzo Nocera è il nuovo coordinatore del sindacato per l'area di Agrigento e questa non è l'unica novità. Sì, sono tante le novità che in questo periodo noi come sindacato autonomo stiamo portando avanti. Intanto abbiamo ricoperto l'area di Agrigento dopo la scomparsa del collega Guida, quindi abbiamo affidato Enzo Nocera il coordinamento, avrà il compito di organizzare l'assemblea congressuale dell'area di Agrigento, credo, nei prossimi mesi. La realtà di Agrigento è una delle realtà più significative del nostro sindacato. Noi siamo presenti in tutta Italia e non solo, ci siamo rafforzati soprattutto nel Lazio e una delle novità è che con la presenza di alcuni colleghi che vivono all'estero tra Belgio e Olanda abbiamo creato una nostra struttura lì in quella parte d'Europa. Il sindacato è fortemente impegnato non solo a radicarsi sul territorio, ma soprattutto in un momento di grande difficoltà, ma anche attraverso la promozione di convegni seminari che hanno a che fare con materie afferenti alla nostra categoria. Un sindacato in crescita? Assolutamente sì, incontriamo il consenso da parte dei colleghi, del resto l'adesione al sindacato è su base volontaria, però rispetto all'altro sindacato di categoria noi abbracciamo non solo i professionisti e i pubblicisti, ma anche tutti coloro che gravitano nel mondo della comunicazione. A breve ci saranno anche altre nomine? Sì, proseguiremo sul territorio con il nome dei coordinamenti, poi ovviamente ogni coordinamento d'aria terrà la propria assemblea organizzativa. In un momento difficile come quello che riguarda la comunicazione e l'editoria, dato il fatto che ogni giorno abbiamo problemi non solo con l'emittenza privata, ma anche con la carta stampata, abbiamo difficoltà da parte degli editori, quindi una categoria che in questo momento sta soffrendo parecchio. Per chi si volesse iscrivere al SAGI, il sindacato autonomo giornalisti italiani, cosa necessita, cosa serve? Dunque, iscriversi al sindacato, i colleghi lo sanno, è estremamente semplice, basta contattare, e noi metteremo sul sito a breve i nominativi dei referenti di area, perché non li chiamiamo referenti provinciali, ma referenti di area. L'iscrizione ha un costo risibile, tenuto conto proprio del fatto che i colleghi in questo minuto soffrono parecchio dal punto di vista occupazionale, non passa il giorno purtroppo dove ci sono licenziamenti, quindi veniamo incontro all'esigenza dei colleghi con un'iscrizione il cui costo è estremamente risibile, e dopodiché noi garantiamo tutti i servizi normali di un sindacato, quindi l'assistenza legale e tutte le altre cose che conseguono proprio per la specificità del sindacato di categoria. Ma non solo ci fermiamo a questo, noi organizziamo convegni e seminari su questioni che riguardano il nostro mestiere. Grazie a tutti.